UN GIORNO Un giorno sarò coraggioso come te. Ricordi quando ti ho detto di sparare e tu hai detto no? Sei stato coraggioso. Come procede qui? La finirò per i suoi sedici anni. Signor Logan, suo figlio si trova in una posizione preoccupante. Se dovesse finire di nuovo davanti alla fine, la corte verrà sottratto alle sue cure. Caporale, come ci hai trovati? Mi stavo sorvegliando. Devi aiutarmi, figliolo. Qualunque cosa sia, non fa per me. Hai dimenticato Tony McManus. Io invece sì. Per me sei un fratello. Vai a caccia. Come ai vecchi tempi, caporale. Sì, signore. Ned, su che posto? Qui non c'è! Sei un soldato. Hai fatto quello che dovevi. C'è un cecchino! Cosa? Mi stavo chiedendo. Non è che conosci qualcun altro là fuori che abbia le tue stesse abilità? In che guaio mi hai cacciato? Me lo devi! Vorresti che lei fosse ancora qui e non io? Vuoi sapere perché scappo sempre? Andiamo. Perché tu non mi vuoi, papà? Siamo solo uomini. Non siamo invincibili. Cerchiamo di seguire la linea tra il coraggio e la paura. Non mettermi alla prova. Adesso è finita. Grazie a tutti!